Armando Marrocco è un artista degli anni 60, è un artista che ha portato avanti una bella ricerca nella Milano degli anni 60 e giovanni fa va invece che un giovane artista calabrese che fa della pittura e della scrittura, la materia su cui poi va a dipingere, quindi una materia espressiva, quindi il suo linguaggio artistico. La mostra ha avuto un successo enorme, è stato realizzato un catalogo per l'occasione, un catalogo che è stato realizzato anche grazie al supporto di Banca Mediolanum. La mostra devo dire che ha avuto un successo enorme anche perché è stata visitata nelle scorse settimane anche da galleristi stranieri. Noi abbiamo avuto un gallerista di Bruxelles che ha visitato la mostra, era entusiasta, è stato proprio qui a Cosenza e stasera invece abbiamo ospiti e due galleristi olandesi e che ringrazio di avervi qui a Cosenza, grazie di averci raggiunto. La galleria sta realizzando e sta creando dei rapporti a livello internazionale. Questa sera abbiamo voluto coinvolgere delle aziende leader che sono Cantina e Greco e Salunificio Menotti per una serata così che coinvolga in qualche modo più sensi, cioè non solo il senso visivo legato rettamente a un'opera d'arte ma anche il senso del gusto, il senso dell'olfatto. Dunque è una contaminazione di generi. Contaminare l'arte con il vino in questa rassegna dal titolo Quando il vino incontra l'arte di cui abbiamo anche creato una sorta di format ovvero un vero e proprio corso di analisi extrasensoriale che faremo e abbiamo già fatto un numero zero qui in galleria. I Greco è una realtà produttrice di olio e vino, si trova a Cariati. Abbiamo proposto una declinazione dei tre gaglioppo dell'azienda I Greco. Le bollicine rosè, metodo classico gran cuve millesimato. Il savù è un rosato sempre da gaglioppo, quello che ho nel bicchiere. E infine il katà, il rosso sempre da gaglioppo con sei mesi di affinamento in botte. Qualunque cosa possa far parlare delle cose belle che abbiamo nel nostro territorio non possono che aiutare a far venire fuori tutte le cose che ancora sono sconosciute. Io dico che la Calabria è stata la culla della cultura. È per noi molto più facile che i nostri territori riportarla a quei livelli. Basta solamente riuscire a portare fuori le persone giuste. E io sono convinto che con queste iniziative che sono state organizzate stasera su Cosenza che aiutano alla nostra causa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.